L'indice oggi sta attraversando una fase di trasformazione. C'è un progetto di passaggio all'online, c'è un progetto anche di creazione di una fondazione che raduni tutte le recensioni e le riviste di recensioni italiane ed estere. Detto questo, la rivista cartacea resta, resterà, e stiamo cercando di accompagnare questa trasformazione mantenendo tutte le caratteristiche che l'indice ha avuto fino adesso, in particolare la competenza, l'aumento di collaboratori che devono trattare di libri in maniera competente e anche una moltiplicazione di punti di vista. Quello su cui l'indice lavora intensamente, soprattutto in quest'ultimo anno, è proprio la possibilità di avere più recensioni e più spazi critici intorno a grandi temi e grandi problemi. Per questo le rubriche, dei segnali, dei primi piani e anche dei libri del mese si trasformano sempre di più in momenti di confronto. Ecco, se c'è una cifra che forse l'indice deve mantenere e anche aumentare è proprio questa capacità critica nel senso pieno. Cioè bisogna dare ai lettori non solamente l'opinione di un esperto, ma il senso di un problema che quel libro crea e porta alla luce. In questo senso il confronto di più discipline, il confronto di più esperti, di lettori interessati che provengono da prospettive diverse, è quello che fornisce una garanzia migliore per dare appunto questo spazio critico intorno ai temi importanti di oggi. Il confronto di più Il confronto di più